Ciao a tutti ragazzi sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Oggi io e mia moglie facciamo in assoluto la nostra prima partita completa Ovviamente quando abbiamo fatto il video del cosa ne penso più l'unboxing Abbiamo letto il regolamento e abbiamo provato a far girare un po' le regole Vedendo qualcosa di veloce appunto per farci sopra il cosa ne penso Ma oggi siamo nella nostra vera e propria prima missione E poi vediamo, intanto ci giochiamo alla missione 1 di introduzione di Sword and Sorcery Gioco base senza espansione né niente E poi più avanti se ci dovesse piacere ci faremo una vera e propria serie sopra Dedicata proprio alla campagna Io, ah, visto che Sword and Sorcery è bellino perché ti consente di giocare alla storia Con vari gruppi e vari allineamenti Cioè allineamento neutrale come D&D Buono e malvagio Noi abbiamo scelto di fare malvagi E io ho scelto Ecarus che è il cavaliere della rosa nera Mentre invece mia moglie Io ho scelto Shae che è un'assassina E basta Sì, è un'assassina Quindi le nostre miniature sono Vabbè, la spada qui ha preso un po' vento ragazzi Perché è il tipo di plastica È il tipo di plastica Solito da una parte ma non troppo Quindi si piega purtroppo Io ho preso il cavaliere della rosa nera Che è qui E mia moglie invece ha preso Shae L'assassina Ora, tanto il regolamento poi lo vedete mano a mano mentre si gioca Però l'avete già visto nel video Cosa ne penso? E vi rimando magari a vederlo Comunque, qua giù in fondo ci sono qui il mazzo degli eventi di questa missione Il potere dei nemici Nel caso un nemico Ma non in questo caso Perché gli unici due mostri in questa avventura Sono il Gremlin verde e il Gremlin blu Quindi gli unici due mostri in questa missione qui sono Gremlin verde e blu Anche perché è una missione introduttiva Inutile metterci demoni, diavoli e cose del genere Comunque, mazzi tesoro Mazzi trappole Mazzi nemici Che vi ho detto chi sono Incontri e potere del nemico nel caso servisse Ora, iniziamo Ti faccio fare il primo turno a te In questo gioco non c'è un tot come zombie side C'hai tre azioni Fai quello che ti pare Quello che puoi fare ce l'è scritto sulla gemma dell'anima Ok? Allora, il primo valore col cuoricino sono i punti ferita Ovviamente Quindi ce n'hai quattro Sotto il pugno rosso, lo vedi? Sono gli attacchi che puoi fare Quindi puoi fare un solo attacco ovviamente che sia di livello 1 Quelle specie di tre triangolini gialli Lo vedi? Sono il tipo di azioni Che invece puoi fare Ok? Quindi te puoi farci Sono azioni gratuite che non costano niente Come apri una porta, non costa nulla Però una porta chiusa come invece questa la devi sfondare Quindi ti richiede un'azione Azioni che poi magari servono anche per raccogliere tesori e cose del genere Oppure scambiare oggetti fra l'inventario E mettertelo in mano corpo a corpo Sono tutte cose che costano azioni E il numero di azioni che puoi fare sono quelle gialle A parte quelle gratuite E l'ultimo simbolo Che è quello in cima È il numero di poteri, di talenti che puoi avere Quindi il tuo personaggio essendo di livello 1 ha soltanto una carta Quando passerai di livello e magari arriverai a livello 2 Avrai due carte Per passare di livello Ora qui poi si farà un mucchietto mano a mano Bisogna guadagnare i punti anima Ok? Che sono questi qua giù I punti anima una volta guadagnati ammazzando mostri Facendo la missione e tutto quanto Si mettono in un cumulo in comune, no? Per passare di livello devi fare Devi moltiplicare il livello che vuoi raggiungere per se stesso Quindi per arrivare a livello 2 2 per 2 è 4 Devi avere 4 punti anima Però sono un mucchio in comune Quindi ti potresti dirmi Mori e mi fai passare di livello Capito? Perché mi serve sbloccare le abilità E io allora ti dico Ok, spendeli tutti E poi passare di livello L'ultime due cose In questo portale qui Quando si portano le anime Devi, da questo portale Puoi tornare in vita un eroe Ok? Perché gli eroi sono tipo immortali Un po' stamori Diventano creature E poi ti faccio vedere la carta Comunque possiamo partire Ricordati che te Quella lì, mettila lì Aspetta, ma questa cos'era? Non mi ricordo Il numero di talenti che puoi avere Quindi talento te ne puoi avere Di partenza solo uno Ah, l'unica cosa Magari troviamo un pochino Di segnalini punti ferita Perché questo tipo vale dieci Inizia a metterne un po' due, uno Ok, quindi Le prime azioni Che puoi fare Sono Il numero di movimenti Che puoi fare Ok? Cioè il numero di spostamenti Che puoi fare Sono Quelli che c'è scritto Sulla scheda del tuo personaggio Quindi il tuo personaggio Ha un piede Con un valore di quattro Il movimento è unico Nel round Ok? Quindi puoi fare solo un movimento Non è che ne puoi fare più di uno E le azioni Lo vedi quello giallo L'azione gialla sulla gemmina La puoi usare O per fare un'azione Tipo come ti ho detto Sfondare porte E fare cose del genere O se no puoi spendere Il tuo punto azione Che te No, te ce ne due Perché te sei ladra Ne puoi spendere uno Per aumentare il movimento Di una casella Oppure in combattimento Ne puoi spendere uno Per aumentare il danno di uno Quindi cosa vuoi fare ora? Ah ricordati Le caselle sono tipo Uno, due, tre Capito? Sono collegate Sì Lì davanti Però come vediamo C'è già una traccia Quindi come prima cosa Io direi Vediamo la traccia Che c'è lì sotto Che non costa azione È una cosa gratuita Quindi noi la traccia Ma dobbiamo essere lì Nella casella Per prendere? Devi In che casella era esatta? Ah quella centrale Sì Quindi devi fare Un'azione Vai qui E poi vediamo la traccia Per vedere la traccia Si va sul libro dei segreti Che è quello Come abbiamo visto In HeroQuest E Vediamo un po' dov'è Il libro dei segreti Traccia 1 1.3 Ora te lo faccio leggere Aspetta Lo trovo un attimino Traccia 1.4 Traccia 1.3 Questo qui E leggelo Alcune vecchi armi Giacciono vicino all'altare Una volta per missione Ogni eroe Che si muove Su questa traccia Può spendere Un'azione Per pescare Ed equipaggiare Fino a tre carte Oggetto Scelto da ammazza Dalla scorta E la scorta Quella principale Che abbiamo fatto Già l'equipaggiamento Di partenza Capito? Però la posso fare Un'altra volta O no? Sì ma che te frega Tanto le carte Sono sempre quelle Cambia nulla Se durante la missione Tu dicessi No ma quest'arma Mi fa schifo La voglio cambiare Voglio prendere un'altra Può tornare lì E farla Magari io posso Prendere un'altra arma In più come questa Dice di sì? Guarda un po' Una volta per missione Ogni eroe Che si muove Su questa traccia Può spendere Un'azione Per pescare Di equipaggiare Fino a tre carte Oggetto Scelto da ammazza Dalla scorta Ok Quindi sprechi Il movimento Il movimento L'hai finito Perché l'hai interrotto Poi sprechi Un'azione E vai Nelle carte scorta Che sono queste qui Ricordati che le carte Che puoi equipaggiare Devono avere O questo simbolo Che è il simbolo Per tutti Oppure quello lì Se no vuol dire Che non è per te Ovviamente due armature Non le puoi mettere E c'è un altro coltello Deve averci il simbolo Delle due spade Però eh Che è come arma debole O arma secondaria Ok Trovata Dovrebbe essere questa Però Posso prendere la scimitarra C'è il simbolo Delle due spade Ok Ah simbolo mia E c'è il simbolo delle due spade Allora Ah un'altra cosa Leggimi Perché questa è l'abilità Che ti si è scelto Il talento Ma dopo Leggi quella che c'è scritta qui Allora Vortice di pugnali Ogni volta che attacchi Con un pugnale Esegui un attacco Esegui un attacco Esegui un pugnale Con un idoppio Ah pugnale Singolo Giusto? Ogni volta Col pugnale Singolo Esegui un attacco Esegui un attacco Esegui un pugnale Con l'arma secondaria Con l'arma secondaria Con lo stesso nemico Va Ah cazzo Attacchi con tutte e due le armite Sì Invece la mia Spietato Spietato Se ci sono almeno due nemici Di grado diverso in gioco Quindi devono essere anche di grado diverso Tutti i tuoi attacchi Contro un nemico Di grado inferiore Infliggano più un danno Questo è buono Ah Zainetto Gli oggetti che può portare Capacità Io ho due Te c'è tre Perché sei un ladro Quindi Ti hai fatto Il movimento L'hai finito L'azione che avevi L'hai finita Potresti fare un'azione gratuita Ma nella stanza Non c'è nient'altro Di interessante Capito? Perché non c'è nulla Quindi io con quest'azione Ora che tocca a me Mi muovo vicino alla porta Come? L'ho smesso Finito No perché il movimento Una volta che lo interrompi Non puoi andare avanti Capito? Non puoi Non puoi preseguirlo Quindi una volta che interrompi Il movimento è finito Ora tocca a me Che io ho invece Tre movimenti E faccio Uno Due Con l'azione gratuita Apro la porta No? Perché è una porta aperta Questi qui invece sono i portoni chiusi Quindi faccio Due E tre Perché se fai un'azione gratuita Puoi proseguire nel movimento Se invece devi fare un'azione di raccolto A cose del genere Il movimento L'hai finito Vado qui E come vedi Per connettere le zone Per vedere se sono in zone di vista No 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 Per vedere se le zone sono in vista Vedi ci sono delle X Te devi tracciare una linea immaginaria E se non ci sono elementi Che bloccano la vista Te vedi fino a 5 Il massimo che puoi vedere di distanza È fino a 5 Quindi io vedendo fino a qui Soltanto Giro questo E vediamo cosa c'è sotto Sotto C'è il simbolo di un mostro Ok? Su quest'ombra qui Quindi quest'ombra io la levo La vado a scartare E pesco dal mazzo dei nemici La prima carta Tanto comunque sono sempre Come tu hai detto Gremlin Non c'è nient'altro Però È uscito un Gremlin mostro Uno verde Piccolino È uscito un Gremlin mostro Che va Qui È quello Vedi sì Si piegano anche un po' Alla indietro Ma come mai è tutto piegato così? Beh ti ricordi anche quando si fece il video Era quello un po' cionco No sono tutti così È perché hanno preso vento Aspetta lui Attenta attenta Eh il problema è che si spartano Peccato Levalo lì O se no lascio Potrebbe servire dopo Ok Ora c'è questo Gremlin mostro Io ho fatto il mio movimento L'ho finito Potrei fare la mia azione Ma non c'ho da fare nient'altro E tra l'altro Non posso attaccare a distanza Perché c'ho un'arma a distanza a zero Quindi quel Gremlin Resta lì Ok? Ora che C'è un mostro rivelato Ovviamente L'azione è sempre Giocatore Mostri Giocatore Mostri Giocatore Capito? Nel tuo caso non c'era il mostro Ora bisogna fare una fase del mostro Quindi andando alla fase del mostro Devo pescare una carta Incontro Anche qui casuale E l'incontro casuale Mi dice L'arci nemico Attacca Arci nemici Non ce n'è Quindi attiva tutti i nemici Viola Altrimenti attiva tutti i nemici Di grado più alto Ok? Non ce ne sono però Tutti i nemici di grado più alto C'è quello Quindi per forza devo muoverlo Perché qualcosa è lui Quello di grado più alto Anche se è da solo Capito? Quindi lo muovo Ed è bellino in questo gioco Che hanno l'intelligenza artificiale I mostri Quindi Non sai come farà Ora Il suo obiettivo principale È quello che ha più soldi Noi non avendo soldi Non avendo niente Quindi siamo alla pari Quindi non ha un obiettivo preferito Se si trova a zero Qui Attacca con gli artigli Se no Se si trova entro Uno o due E quel goblino lì schifoso È questo qui Se si trova entro Uno o due Muove per ingaggiare Attacca con gli artigli Ok? Quindi lui si muove Fino a me Ovviamente che C'è altri eroi Sono l'unico E muovendosi qua giù Va ad attaccare Ora attacca con gli artigli Artigli tirano due dadi rossi Che ti faccio vedere come funziona Ah se l'attacco con gli Poi c'ha delle abilità Se l'attacco con gli artigli Inflige danni Scarta una moneta a caso Dall'inventario degli eroi Perché sono là dei gremlin Banda 1 Se i nemici controllano la sua area No Non c'è banda Forza malvagia Attiva questo nemico Niente Allora Vado a tirare Lui tira due dadi rossi Per l'artigliata E ha fatto un niente Il simbolino della faccia Scema del mostro Non è niente In più Un simbolo che potrebbe attivare Un potere Mi è andata bene Perché non mi ha fatto danni Ok? Quindi il turno del goblin Con la sua intelligenza artificiale Del gremlin Lo chiamo goblin È finita E quindi Il turno è andato Fase tua fatta Fase mia fatta Fase evento Si gira Il primo evento Che è Carnificina Fino alla prossima fase evento Il primo attacco Di ogni eroe O nemico Infligge critico Ok? Due o tre giocatori Evoca Meno uno nemici Cioè bisognerebbe fare Noi quanti siamo? Due Meno i nemici attualmente in gioco Uno Meno uno Quindi non arrivano nemici Per questo ci è andata bene Perché c'erano pochi nemici in gioco Ora Ricordi che tutti i colpi Che andremo ad infliggere Faranno critico Ok? Quindi critico Se non erro Bisogna girare Un simbolino critico Comunque quello si va a vedere dopo Fatto La missione fallisce Se tutti e due Siamo in forma spirituale Quindi se ci hanno ammazzati Che diventi una specie di fantasmino O se gli eventi finiscono Quindi prima che gli eventi finiscono Bisogna aver finito tutto Tocca a te Nuovo turno Nuovo round Tocca a te Che al solito c'hai le azioni scritte Cioè i movimenti qui Allora Te eri qui centrale Quindi fai Uno Due Ora noi Essendo in due Nella stessa area Lui è da solo Abbiamo il dominio dell'aria Ok? Quindi noi dominiamo l'aria E dominando l'aria Se non erro Li fai un danno in più Ok? Quindi c'hai già un colpo automatico Perché siamo in di più Quindi una ferita automatica Già gliela fai Poi ragazzi Ovviamente se qualche regola scappa Non vi preoccupate Metterò nota a video Tanto è la prima partita Quindi Ci può Ci può anche stare Quindi li fai Cos'è? Sono dadi giusto? Sì Allora la tua arma Attacca A distanza zero Quindi solo in corpo a corpo E tiri due dadi blu Ricordati Sì Ricordati soltanto che Hai un attacco solo E ti dico un'altra cosa Prima di iniziare Hai un attacco soltanto Però Una delle tue due azioni La puoi spendere Ok? Per fare un danno in più No no ma aspetta In più Se Cosa ti dice Questo qui Vedi questo è il potere speciale Questo ti dice Se sprechi un'azione Questa qui dorata Puoi fare questa azione qui Il livello 1 Quindi aggiungi un colpo Io voglio usare Tutte e due le armi Come dice la mia abilità Sì Quindi Un altro dado blu Prima Prima attacco Un dado rosso Ok No ma prima devi fare Se il primo attacco Cosa diceva? Se il primo attacco Ogni volta che attacchi Con il pugnale Cioè tutte e due le armi Ok Allora tiri Tre dadi blu E uno rosso Esegui un attacco essa Col pugnale Perché io posso fare Un attacco essa Capito? Ok Quindi io praticamente Ho già contato I dadi della seconda arma Ma va Oh Allora Due scudi Cosa vuol dire? Che sono andati a vuoto Giusto? Due scudi? Sono stati parati dal Dal nemico Giusto? No che non è andata A segno niente Ok Poi è fatto Una stellina Una stella Quindi vuol dire Che ha fatto uno successo? Eh ora ti dico Allora è fatto Due colpiti Questo simbolo qui Le metto con le corne E il colpito Una stella E un fulmine Stella e fulmine Attivano i vari effetti Che potreste via in giro Allora della prima arma Tira l'effetto Che è praticamente Un colpito più Allora quindi Tre colpiti Quattro Perché siamo in superiorità numerica E E gli ho fatto un critico Con la seconda arma Con il fulmine No lo posavano solo Quindi decidi O qui o lì E il goblino Il gremlin Però chiunque Sia eroi Che i mostri Hanno diritto a tirare Anche se non hanno armature Né niente Hanno diritto A tirare almeno Un dado blu Ok Un dado blu Che ti serve ovviamente Se tu non avessi armature E cosa addosso Per provare Una misera difesa Quindi Gli ho fatto Quattro ferite Tira Vabbè per il goblino Vediamo se Ha fatto uno scudo C'ha qualche abilità speciale No Quindi semplicemente Ha assorbito un colpo E gli ha fatto tre ferite Tre danni Lui ha tre ferite Ok Quindi è quello che bastava Per Per ammazzarlo Uccidendolo Le anime No non da anime Purtroppo ci è andata male Però uccidendolo Questo qui Ci ha dato cinque monete Cioè ti ha dato A te cinque monete d'oro No Quindi prendine una Che vale cinque E purtroppo Non ci ha dato esperienza Ci ha dato soltanto Su cinque Ci ha dato solo soldi Le monete ovviamente Le puoi usare Per spendere nell'emporio Quindi movimento L'hai fatto Attacco L'hai fatto Ti mancherebbe Soltanto le azioni Però d'azioni C'è da fare nulla Non ci sono mostri Non vai nella fase dei mostri Quindi anche questa è una cosa buona Tocca a me Che faccio il mio movimento E tutto qui il gioco Tre Faccio uno E automaticamente Essendo linea di vista Giro E anche stavolta È un nemico E si va a ripescare Dal mazzo dei nemici Per vedere cosa esce Questa volta Esce un gremlin blu Metticene uno blu Quaggiù Il problema è che Il mio eroe Si muove di tre Ecco dove è il problema Perché se no andavo Un corpo a corpo Lo spaccavo dalle botte È un sasso questo Ha un sasso in mano No Attaccano Aspetta Fai vedere Sì sì Ha un qualcosa in mano Sì però vabbè Attacca solo un corpo a corpo No no Perché dicevo Perché sembrava Che fosse rotto Invece è un sasso Tagliato Due E tre Ok Non posso fare nient'altro Perché tanto cosa vuoi fare Non c'è da fare nulla Perché Un po' si attacca Un corpo a corpo Allora io non posso fare nient'altro Quindi un'altra volta ancora Fase dei cosi Fase dei mostri E quindi Devo girare un'altra carta incontro Attiva tutti i nemici rossi Altrimenti Attiva tutti i nemici di grado più basso Ovviamente C'è solo quello Che anche lui Come obiettivo principale C'ha quello con più soldi Quindi in questo caso qui Viene verso di te Però In visuale c'ha me E quindi va da te Lui cerca sempre Di muoversi Anche qui come zombie side Io anche i mostri Devo avere la visuale Se può arrivare da te Arriverà da te Perché c'è più monete No? Ovviamente Però bisogna vedere Uno se con i movimenti Che può fare Ci arriva E poi ovviamente Se non ci potesse arrivare Va con la linea di visuale Va sul primo che trova Tanto comunque te lo spiega qui Zero Attacca con gli artigli Uno Due Tre Muove per ingaggiare E attacca con gli artigli Ok Però c'è un'altra regola Lui verrebbe da te Se avesse più strade No? Perché lui farebbe Uno, due, tre Verrebbe da te Però Quando finisci in una casella Sia l'eroe Che il mostro Sei automaticamente ingaggiato Quindi il mostro Non può andare avanti Si ferma lì E ovviamente Fermandosi da me Attacca me Quindi Muove per ingaggiare Attacca con gli artigli Artigli tira Due rossi E dà meno una all'armatura Lui è un po' più forte Quindi tira per lui Cazzo Mi fa tre ferite Più un fulmine Col fulmine Attiva qualcosa Tre ferite Più il fulmine No Ah la pietra Buona la pietra fa Meno male Mi ho mai tirato la pietra Faceva due ferite Mi spaccava la testa Allora Mi ha fatto tre danni Più il fulmine Vedi ce l'aveva davvero Se attacca l'artigli Infligge danni Scarta una moneta a caso No nient'altro Vai Allora quanti danni? Tre E mi dà meno una all'armatura Io D'armatura C'ho uno Quindi vuol dire che Un colpo glielo paro Però no Perché me l'ha tolta Quindi c'hai tre danni Quindi tre danni Però vedi ci sono Questi scudini qui Che si ricaricano Inizio turno Quindi un danno L'assorbo con questo scudino Lo levo Due danni Però devo tirare Ovviamente I dadi Me li dà Quindi questa armatura Qui mi dà tre dadi blu Però non ne posso tirare tre Perché quanti danni restano? Due Quindi massimo due Devi tirare sempre Tanti dadi Quante sono le ferite Anche se ti c'è 40 scudi Ma ti ha fatto due ferite Non è che tiri 40 scudi De Ah de Non ti feriranno mai Eh Eh Oh se no de Sei immortale davvero Ho fatto uno scudo Glielo ho parato Più una Fai vedere Un No Un colpo E una stellina Niente Quindi uno l'hai parato Però non l'hai tutta la ferita E un'altra ferita L'ho presa Quindi questa lo piglio E la vado a mettere Sulla scheda del personaggio E quindi è una ferita Si sente di un tino Qua nel video Ok Fine del turno Il mostro ha fatto La sua azione Che mi ha attaccato Ora dopo aver fatto La sua azione C'è No Non c'è la fase 20 Questa si scarta Ok Quindi le metto qui La pelle degli scarti E basta Praticamente si rivela Un evento Ogni due turni Capito Il prossimo evento Si rivela Quindi questa vi Ah non si era messo il critico Vabbè Chi se ne frega Vai Tocca a te È al solito È quello che Quindi Uno Due Siamo ancora una volta In superiorità Quindi lo attacchi Ancora una volta Ti chiedo Vuoi sprecare No 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 Ma sprecala tanto Per cosa le usi Queste azioni vid dorate Non c'è mia da fare niente Da interagire Uguale E gli facevi un danno in più Vabbè Gli faccio un danno in più La spreco Vai E poi tira per le armi No no E ad esempio Potresti sprecare Anche la seconda E gli fai due danni in più Perché usi anche questa Vedi Si Si fa Che ne ho almeno due Allora questa La devi tappare A livello Due Quindi la devi tappare Così Quindi già due danni Gli hai fatti Quattro danni E il fulmine Ti attivavo qualcosa Fulmine o stellina Si Più un danno Si ma non è un fulmine Ah si Minchia Non l'ho visto Quindi quattro danni Tre danni Più quattro Cinque danni Cinque danni Cinque danni Lui ancora una volta Non ha Taglio meno uno Quindi quattro danni Perché Non gli assorbe Le armi da taglio Quindi ha fatto Quattro danni E lui deve tirare Un solo dado Perché non ha armatura Non ha niente Quindi anche lui Tira un dado Niente Quindi fa vedere Quattro danni Quattro danni È morto Boia Sta facendo una strage Della madonna Quindi anche lui È morto E ti prendi Dieci monetine Però niente Esperienza Ci sta andando A merda Ci sta andando A merda Ma tanto Sono dieci velle Sì Ah cambia Un logo Nemmeno visto E cambiava anche Il coso Il colore Ok E quindi Anche questo È morto Le azioni le hai finite I movimenti le hai finiti Tocca a me Questo qui Un board in nulla Perché il bello Che lì sopra dice No è un portale Portale aperto Ma dove ti porta Un culo E dove mi porta È aperto Ma dove mi porta Vedi non c'è collegamenti Non c'è niente Vabbè Noi non lo prendiamo Allora Faccio Uno Due Vado qua giù Ci sono E si rivelano Quelli lì E si rivelano Questi qui Quindi rivelo Il primo E rivelo Il secondo Quindi Il Erano tutte e due Nella stessa Uno qui e uno lì No tutte e due Nella stessa Allora Il primo rivelato È Oh finalmente Che da punti esperienza Due verdi Quindi uno verde Ce la metto io E uno verde Ce la metti te E poi arrivo Il gremlin Con gli steroidi No non è quello Ma cos'è È l'orco Se comunque Questo gioco Ha preso vento Davvero Boh Ha preso vento Purtroppo Per le miniature Ma ha deluso un pochino Sono belle Però hanno preso Cioè Belle anche Le belle dettagli E tutto Però Sono tutte storte Hanno preso vento Tutte Non c'è un goblin Ma l'ho già trovato Io Eccolo qui Eccolo qui Cioè Non c'è un goblin dritto Sono Sono Tutte Tutte Tranne queste No tranne quello Vabbè che è gigantesco E più resistente Tutto è store No Oddio Questa sì Questa è store Eh stessa Qua da sotto Sì hanno preso Tutte vento Hanno preso Allora Uno Due E tre Vado avanti Perché Il vero Il bello Io vado avanti Le attiro E te le picchi Vabbè Fine Non c'è eventi Non c'è nulla lì No Quindi vado avanti E ora tocca a loro Il casino è quello Allora Giro Carta incontro Attiva tutti i nemici Blu Altrimenti tutti i nemici Ingaggiati Eseguono un attacco Con la loro Arma principale Che cura Non si muovono Sì ma c'è un sasso Loro L'arma principale Sì ma tutti i nemici Tutti i nemici Ingaggiati Non ce n'è ingaggiati Ingaggiati vuol dire Nella stessa casella No perfetto O almeno che non siano Mostri a tiro Ma questi non lo sono Ok Le trausano Corpo a corpo Il sasso Tirano il sassato In testa Allora Basta Fine Tocca a te Di quanto ti muovi te? Vai in corpo a corpo? Uno Due Tre Uno Due Tre E quattro Vado in corpo Corpo a corpo Al solito Prima di attaccare Parte vabbè Devo scegliere Chi attaccare Dei due Ma sono uguali No Te tira per i danni E poi mi dici come li dividi Tanto c'hanno tre e tre E sono uguali Cioè non è che Innanzitutto uso tutti i tuoi punti Lì Per aumentare il danno O no Ah Scusa Ha iniziato il nuovo turno Quando inizia il nuovo turno Questa la devi girare Di 90 gradi E va qui Il prossimo turno La ristappi Perché è un'abilità Talmente forte Che richiede un po' di ricarica E sì Vuoi fare Vuoi usare una delle tue due azioni Per avere il danno in più Punti ferita che c'hanno Tre e tre Tre e tre Io già uso Tu e tre No Non lo uso Perché Voglio far sì che i punti che c'ho Li uso per fare un altro attacco Capito Come fai Per fare un altro attacco C'ha un'abilità tua Non mi hai detto che c'era No 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 Te sprecando questi punti qui Puoi fare due cose O ti muovi di una casella in più O attivi un potere Oppure aumenti il danno di uno Aumenta il danno Di uno Quindi un danno l'hai già fatto In automatico Ok Tre dadi E un colpo Io ti conto già un danno Quindi Tre danni Tre danni Col Quattro danni Perché c'è il coso Quattro danni Quattro danni Perché gli ha fatto anche Letale vuol dire che Non gli rompi l'armatura Ma tanto non ce l'hanno Quindi quattro danni Loro al solito Non hanno Armature Ah Se li vuoi fare sullo stesso Tira un dado Se li vuoi dividere Dimmi come li vuoi dividere Li vuoi fare tutti su uno Tutti su uno Ok Allora tira un dado solo Uno l'ha tappato Quindi sono tre danni Allora Uno è morto Quale vuoi Vabbè Uccidiamo questo qui Allora questo qui È morto E ti dà la bellezza Di Oh Un punto Finalmente abbiamo guadagnato Un punto anima Che sta lì Ok Ora è rimasto il secondo E Allora attacca O no 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 L'attacco è soltanto uno Ok Però Te col tuo attacco Hai ammazzato quello lì Devi decidere L'attacco su chi farlo Perché se c'è un attacco solo Non è che ne puoi attaccare due Capito Deve andare su uno Quindi è deciso lui Lui è morto E non c'è più E non c'è più Te sei la prima che muove Sì Quindi fase dei mostri Perché ora il mostro Ovviamente c'è Quindi vediamo un po' sulla fase incontro Cosa succede Assalto Attiva i nemici Tutti i nemici verdi Altrimenti Eh sì Purtroppo Attiva il nemico verde Ora Lì sei a zero Attacca con artigli Attacca con artigli E lui con artigli Tira due dadi rossi Tira due dadi rossi Se l'attacco con artigli Infligge danni Eh ti ruba Una moneta a caso Dall'inventario Ti ruba quella minore Che un rompa il cazzo Ti fa due ferite Più un fulmine Attiva qualcosa No Più la stella Attiva qualcosa No Perché fanno nettamente schifo Quindi Ti ha fatto due colpito Il tuo livello d'armatura Quant'è? Cioè Non c'ha il livello d'armatura Perché è una cosa leggera No però posso tirare tre dadi Però ti fa tirare tre dadi Blu Però aspetta Lui ti ha fatto due ferite Quindi tiri due dadi Tira due dadi blu Tappati tutti E il goblino Eh ma io non posso fare nient'altro Ora Interrompi l'azione vai Oh azione bloccata Azione bloccata Chiamo gli admin Azione bloccata No 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 E che cazzo Io lavoro 14 ore di giorno Allora Uno Io ero il primo a muovermi Il secondo Il secondo Il secondo E ora ti Oh potrò combattere un po' anch'io Allora Spreco anch'io la mia unica azione Per fare un danno automatico E tiro due dadi rossi Che sono i più forti del gioco E il goblino difende Costa cippa Quindi gli ho fatto Tre ferite Quattro ferite Cinque ferite Perché siamo in superiorità numerica E lui tira un dado Per difendersi Quattro ferite E lui esplode Se le va dai coglioni E mi dà cinque monetine A te ti ha ferita prima No Cinque monetine Ho capato tutte e due Per me Sì Ah L'armatura mi si è ricaricata Fine delle azioni Fine del movimento Questa è una casella unica È una casella a parte È una casella a parte Sì è vero C'è la riga Quindi fine Non c'è moste Quindi niente Fasi di moste Però stavolta c'è la fase evento Fase evento Vento antimagia Fino alla prossima fase evento Eroi nemici Non possono usare effetti stellina Che c'è sul dado Ecco perfetto Due o tre Giocatori Evoca Giocatori meno mostri Sono i nemici che arrivano Quindi zero Oh stiamo giocando bene Una volta ogni tanto E Questa è la mano Fine turno È tutto qui il gioco Tutto qui Facciamo così Io voglio andare qua Tu vai lì A prendere la traccia Ok Però come Come arrivi in questa casella qui Subito all'evento È la prima cosa Perché sono gli eventi Quelli che ci sono in mappa Vado io a prendere la traccia E poi andiamo giù Ma uguale Tanto voglio dire Una è che io so più forte di te Quindi Magari reggo Reggo un pochino più le ferite di te Però Vado qui Uno La scoperchio Cinque Quindi L'hai scoperchiata cinque Aspetta Quella lì era la traccia Mesca la traccia tre Quattro E dal manuale traccia tre Dice Capitolo Uno punto quattro Che Degli strani rumori Ti avvertono di un pericolo imminente È una trappola È una trappola L'eroe attivo Pesca e applica una carta trappola Quindi io Tra l'altro Tra l'altro Aprendo la porta prima Non l'ho fatta la trappola Cosa devi fare? Prima vi la traccia tre Devi Allora Pesca e applica una carta trappola Ok Ora lo faccio Ragazzi Rettifico Quando si è aperto la porta all'inizio Ogni volta che apri una porta Devi pescare una carta trappola Me lo sono dimenticato Ma comunque Ricordatevi Pescatela Ora Nessuna trappola Nessun effetto Che culo È culo roto Ok Vai Allora Hai finito le azioni Non puoi Fine Tocca a me che faccio Uno Due Guardo ovviamente Vado qui Guardo l'evento E l'evento è notte Perché c'è anche il passaggio Dal giorno alla notte Risolvete gli effetti Dell'evento notte Descritti nel libro Delle storie Fate arretrare Tutti Usati di uno Quindi il tuo potere È pronto Ok Ora Risolvete gli effetti Dell'evento notte Descritti nel libro Delle storie Quindi guarda cosa succede Di notte Ovviamente noi siamo Nella prima missione Evento storia Uno Evento storia Uno Notte Ci dovrebbe essere Aspetta Evento storia Evento storia Uno Evento storia Uno Che trovi Do subito Aspetta Aspetta Non vediamo Ah ma è qui Adesso è scemo È lì Notte Evento Cinque Durante la notte Ogni attacco Eseguito dagli eroi Infligge Meno una ferita Perché È buio Perché notte È buio Non ci sono mostri Però ricordiamoci una cosa Qui c'è una traccia Della storia Ok Qui c'è un tesoro Quindi finalmente Qui si può lotare qualcosa Qui c'è un altare Disattivato Ok C'è il modo per riattivarle Tutto Ma a noi non ce ne frega A noi si usa questo Per tornare in vita Nel caso Lì freghiamocene Quindi tocca a me Io ho finito Uno due Quante azioni ho fatto Scusa Uno due E faccio un'altra Faccio tre Ok Vado qui Ah scusami Uno due Tre Che una casella È quattro No io ho tre movimenti Allora rimani qui Ah ok E altra cosa Che mi sono dimenticato Di dire prima Quando sulla mappa C'è questo simbolino qui Dire che è un terreno accidentato Quindi Meno un movimento Quando entri in quel posto O ci passi attraverso Quando ovviamente Quando entri in quel posto Meno un movimento Ti costa doppio Quando esci Non ti costa nulla Ok Quindi muovendosi In quell'area lì Vuol dire che c'hai un malus Al movimento Arrivo lì Quindi è finito il turno ora Sì Quindi finendo l'evento Non ci sono mostri E noi questo qui Lo togliamo E dopo se ne è pescanato Tocca a te Io c'ho quattro movimenti Ah puoi sprecare un'azione Per fare cinque movimenti Vuoi? Aspetta Sì via Ok Una delle tue due Una Due Tre Quattro E cinque Ok Quindi l'hai usata E ora la tua seconda azione Gira questo Che numero c'hai dietro? Allora Ti ora devi fare un tiro di dado Come c'è scritto qui sotto E se esce fulmine Peschi un tesoro Se no Se esce il simbolo Peschi un'altra cosa Ti è uscita la stellina Pesca un simbolino Sacchettina a caso Quindi dal mucchio Ne hai preso uno Vai Fai vedere E poi questo qui lo scarti Cosa ti è uscito? Una moneta da dieci Eh quindi dieci monete Va ti c'è un casino di soldi Le monete vanno tenute di conto Perché andando avanti Nell'avventura Le spendi Al market Capito? Quindi quando vai al market Te le spendi per O Potenziare un'arma Quindi puoi potenziare un'arma Alla forgia Farla più forte O se no compri qualcosa di nuovo Sei arrivata lì E è finito Ora tocca Ricordati che qui Avresti dovuto usare un movimento in più Però va bene uguale Da tanto è una partita di prova Basta Anche se si fanno errori Basta farli notare a video E chi se ne frega Almeno Tanto nessuno fa mai gameplay perfetti Senza manco un errore Poi anch'io uso un'azione in più E faccio Forse non mi serviva nemmeno Faccio 1 2 3 No 2 3 non la uso tanto E giro Questo qui Che è l'evento 4 Quindi va a leggere l'evento 4 4 sarebbe Traccia 4 Evento 1.5 Un mercante scortato da due guardie Chiede la tua attenzione La guerra è il mio lavoro Anzi con la voce di Leopoldo La guerra è il mio lavoro A giudicare il tuo equipaggiamento Penso proprio che tu abbia bisogno di me Non è vero? Qualsiasi eroe che si muove su questa traccia Può visitare l'emporio Spendendo un'azione Oh quindi ricordiamoci che lì c'è l'emporio Ok Quindi se ti ora con i tuoi bei soldini Vuoi andare nell'emporio C'è tante cose da comprare Sì ma la razione non la devi togliere La traccia Non la devi togliere Perché non te la devi ricordare E qual'era la? 4 o 5? Era la 4 Vai Mettila lì Ok Poi quando visiti l'emporio Ho tutte le carte laggiù dell'emporio La traccia che è vicina con l'altare lì delle anime Scoperti Sì è vero E qual'era? Era quello che Anche lì c'era un emporio No poi la scorta Puoi tornare nella scorta Può cambiarti le armi della scorta Sì una volta per missione Sì Può andare lì e cambiare tutte le armi della scorta Ok Questo è l'emporio Te ovviamente te le devi prendere e guardatele tutte Capito? Le armi dell'emporio Hanno un costo davanti Ok? E un costo dietro Che è la versione potenziata Prima di prenderle Guarda Vella ti garba di più E se ci arrivi con sordi Ok Ovviamente se la puoi prendere oppure no Quindi Fase Vento Fase Sì Fase Fase Vento Dono Celestiale In base alla natura dell'eroe attivo Vedi questa è la figata del gioco Noi siamo cattivi Perché l'eroe attivo Ero io L'ultima essere mosso Un nemico Subisce un punto ferita Ma non ci sono Quindi non succede niente di che Se tocca a me Tocca a te Questa è una porta aperta Quindi non chiede azioni per aprirla È gratuita 1, 2, 3 Apro Apri Riveliamo Rivela Quindi riveliamo Ed è una testa Cos'è? NPC sono le teste Però un attimino soltanto Che guardo sul manuale E puoi procedere Guarda che sta guardando lì Metto qua Spreca l'azione per fare un movimento in più E arrivi fin lì? Potrebbe essere tanto Non c'è da fare nient'altro Sprecchi la tua azione dorata E vai Qua Sì perché poi per entrare qui Devi passare di qui Quindi scopre l'evento Scopre l'evento Scopre l'evento Sì Cosa dice? Piazza una carta Tesoro nell'area dell'eroe attivo Ok Che era questo? Una carta Prendene una a caso No Ma dice una carta? Così No 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 Piazza la carta Un tesoro Quindi quello Rimettilo qui l'evento E sopra il tesoro Che hai trovato È un maglio volante Però te che simbolo C'hai di utilizzare gli oggetti Quello lì E non lo puoi usare Però comunque lo puoi portare Ed è bellino Perché è un martello Che quando ti ritorna indietro E attacca a distanza uno Ma quello non è del nano? Sì Te infatti non lo puoi utilizzare Però te lo puoi prendere E te lo porti via Ma non è che Andavano messe su tanto le carte Per No No ma un tesoro è casuale Quello che trovi è casuale Vabbè Comunque niente Non posso fare nient'altro Non puoi fare nient'altro Mostri non ce ne sono E tocca a me Io mi muovo di E uso anche io l'azione Per muovermi di più Quindi faccio quattro Uno Due Tre E quattro Salve Buongiorno Fine turno Non ci sono mostri Io lo posso usare Quel martello lì C'ha una F E un fulmine Io lo posso usare Ad esempio Ed è un'arma principale Che quasi quasi Vedete lo scambio sì Così tiro il martello a distanza Questo si scarta E basta Nuovo round Tocca a te Allora Lasciamelo lì Quello lì lo prendo io Vai Tanto io almeno lo posso usare Lì cosa c'è? E qui c'è un tesoro Sì un forziere Uno Questa è una porta Era già qua Ah quindi fai Sfondi la porta Come la prima azione Non hai usato il movimento Questa è sfondata Quindi un'azione non ce l'hai più Ora ti può semplicemente muovere Eh però Apri il forziere Costa un'azione Ah non è vero Ce n'è un'altra C'hai due azioni È vero sì Quindi entri qui dentro E la seconda Apri il forziere E trovi Una carta tesoro Carta tesoro Trovi difensore Che è uno scudo Però mi sa che anche questo Ti non lo puoi usare Perché non c'è il tuo simbolo Io praticamente A te lo metti Ma l'ho preso automaticamente? Sì sì E quando lo pigli Te lo metti nello zaino Ah Fatto Quindi il tuo turno È finito Ah è una carta per te? Sì? È quella sua carta per me Sì Io ora faccio Uno Sì Raccolgo l'oggetto Che anche prendere l'oggetto Costa un'azione Non tanto per il fatto di raccoglierlo Quanto anche di riorganizzare lo zaino Quindi la spada me la metto via Lo scudo me lo metto via E poi ho interrotto l'azione Perché ho fatto un'altra cosa Quindi peschiamo l'evento Stai subito? Non mi ha una ferita? No lui non usce No io Peschiamo l'evento E contrattacco Due o tre giocatori Evoca giocatori Meno mostri Meno uno Che non ci sono Attiva il nemico più vicino all'errore attivo Non c'è nient'altro da attivare Quindi Turno nuovo Penso che verrà qui Uno e due Sì Quello è Traccia due 1.11 Almeno aspetta Era la traccia due? Sì O no? Miscola la traccia Sì Traccia due Traccia due Sarebbe un antico altare di marmo Dedicato ai tre dei Aneres E nomi Semir Giace qui Come prova della tua anima immortale Esso inizia a emanare una luce porpora In risposta al tuo tocco Una volta per round L'eroe attivo Può spendere un'azione Per guarire un HP Un HP Sì scusa Un punto ferita A se stesso Basta? Hill point Sì Ok Perché la missione ci diceva all'inizio Presto avvicinatevi all'altare E raccogliete le armi che vi ho lasciato Laggiù all'entrata dove sei all'inizio Le armi che vi ho lasciato Dovete raggiungere la navata principale Nella nostra cattedrale Evento storia 2 Che l'evento storia 2 era quello lì Siamo in pericolo Quindi la missione è stata compiuta Perché noi semplicemente per fare questa missione Beh c'è tutta la storia Sì c'è tutta quanta la storia ovviamente Però la nostra missione era unicamente partire da qui Ed arrivare qua giù Ora il gioco sembra una cavolata Visto così Molto facile perché Uno è una missione tutorial Che ovviamente ragazzi è una missione tutorial Come avete visto qui c'era un mostro Però nel caso perché siamo in due giocatori Giustamente siamo in due Il gioco si bilancia per due giocatori Ma se fossimo stati in tre o quattro Qui c'erano due mostri Qui ce n'erano due Cioè qui c'è Vabbè a parte anche prima ce n'erano due Ce n'erano molti di più Abbiamo anche messo qualcosa perché non ci torna Magari qualche cavolatina può essere scappata Però ricordatevi Le cose principali sono Il movimento Le azioni E gli attacchi Ce l'avete scritta sulla gemma dell'anima Quando aprite una porta fatta così È un'azione gratuita Non vi costa niente Non interrompe il movimento È un'azione bianca Quindi infinite ne potete fare Però quando aprite una porta Ogni volta che aprite una porta E non l'abbiamo fatto nemmeno qui Vedi ce ne siamo dimenticati Ma lo correggono alla fine Ricordatevi che in gioco Ogni volta che aprite o una porta O un forziere Quindi non si è fatto nemmeno qui Ce lo siamo dimenticati Bisogna pescare sempre carte trappola Però va bene ragazzi È una partita di prova E ve lo ridico alla fine Quindi sempre Porte aperte Porte aperte Azione gratuita Aprite Non vi costa azione Carta trappola Porta chiusa Che questa qui rettangolare Richiede un'azione di quelle che avete Quindi qui non è gratuita Perché la dovete sfondare Carta trappola Ancora una volta Quando andate ad aprire I forzieri Che sono questi qui Non quando andate a cercare nei tesori Che a volte i tesori Il vario loot sono questi qua No? Queste qui sono di vario loot Non dovete pescare trappole Perché girate Guardate cosa c'è Tirate il dado e basta Quando invece vi capitano i forzieri Che sono questi col simbolo del forziere Dovete girarlo Vedere cosa c'è dentro Ma allo stesso tempo Pescare una trappola Quindi le trappole si pescano Quando aprite un forziere O aprite porte Sia aperte che chiuse Quando c'è un piedino Vuol dire che è una zona accidentata Meno uno movimento Quando ci entrate Ma non quando ne uscite E poi ragazzi Per tutto il resto Le regole sono queste No poi dal libro dei segreti Ti fa capire pure Che ci sono varie scelte In base alle scelte che fai E' certo Cambia la storia E' certo Infatti ci sono due finali Noi abbiamo beccato il finale Quello che ci fa proseguire Nella storia Infatti ti dice Ricompense Il gruppo guadagna 50 corone In aggiunta a ogni eroe Con la tua runa Questa che assumisce una F Adesso Pippo con Mazza Quindi io Guadagna una pozione curativa Dall'emporio Ok E poi Prossima missione Proceva la missione 2 Invece se beccavo il finale Diceva Le speranze del regno Si dissolvano Nell'aria Come il fumo Che si innalza Dalle macerie La città distrutta Ricompensa Nessuna Prossima missione Ripeti la missione 1 Ragazzi Ve l'ho detto Ci sono stati un po' Di errori nella partita Ma anche la prima che facciamo E non vi fate scoraggiare Dalla masnada di token Che ci sono qui Perché poi Effettivamente Quelli che servono A livello di gioco Sono veramente pochi Devo dire la verità A me Come tipo di regolamento Mi sembra Forse uno si fa mettere Pore dalle carte Ma è anche più veloce Di Massive Darkness Si forse Oddio Abbiamo beccato C'è anche la missione Prologo Si Quindi è molto Stirata Nel senso Si Poi siamo in due Quindi abbiamo dovuto Togliere anche roba Il sistema di combattimento Ricorda quello di Descent Che tiri il dado Ci sono i colpiti E vari simboli Comunque vi devo dire la verità Fra tutti Ad ora eh Poi magari Ne proveremo un altro Che mi calberà di più Fra tutti I Dungeon Crawler Fantasy Tolto Hero Quest È quello che mi ha divertito di più Anche se Sta missione ragazzi È stata una missione Del cavolo veloce Di Dungeon Crawler Fantasy Perché poi lo sapete Il mio Dungeon Crawler preferito È Deep Madness Quindi quello per me È il numero uno Però Mi è garbato veramente molto E se mia moglie Ci avrà voglia Si proverà poi più avanti In un'altra missione Insomma Fateci sapere cosa ne pensate Se nel corso del gameplay Avete trovato qualche altra imprecisione Fatecelo sapere con un commento Che anzi Perlomeno ci date una mano A capire magari dove si è sbagliato e tutto E rinnovo ancora una volta Il voto che gli ho dato Ed è un gioco che vale veramente tanto Ciao ragazzi Alla prossima